La 38esima rievocazione storica della Stella Alpina è ai nastri di partenza. L'appuntamento è dall'8 al 10 settembre 2023 nell'incomparabile scenario delle Dolomiti. Voluta, rilanciata e organizzata dall'ASI, la Stella Alpina 2023 è una manifestazione turistico-culturale con 70 prove di abilità suddivise nelle tre tappe ed inserite in un affascinante percorso lungo oltre 460 chilometri. La partecipazione è aperta alle auto storiche suddivise nelle categorie Legend, costruite fino al 1955, e Celebration, costruite fino al 1973. Oltre ai premi dei vari raggruppamenti verrà segnato il trofeo ASI Stella Alpina, alla vettura più rappresentativa tra quelle che avevano preso parte ad una delle edizioni dal 1947 al 1955. La Stella Alpina torna sui tornanti del Trentino per unire la cultura del motorismo alle tradizioni e alle bellezze naturalistiche del territorio. Venerdì 8 settembre è prevista la partenza da Trento per percorrere la Val Sugana, il Re dei Bus, la Val di Fiemme e raggiungere la Val di Fasse e Canazzei. Sabato 9, partendo da Canazzei, si percorreranno i passi dolomitici resi noti dalla storica Stella Alpina e dalle imprese ciclistiche. Il passo Sella con transito a Corvara, il passo Falzarego con sosta a Cortina, la perla delle Dolomiti, il passo Giau fino ad Alleghe, il passo Staulanza con passaggio ad Ogordo e da ultimo il passo Valles per raggiungere Moena e Canazzei. Domenica 10 settembre infine rientro a Trento attraverso il passo di Costa Lunga per raggiungere l'Avis e concludere a Villa Madruzzo.